Non nasconde di essersi lasciato ispirare dalla sua vicenda personale, ma precisa che nella disegno di legge proposto c'è sentimento e non risentimento. Se io arrivassi alla fine del mio impegno politico e non trasformassi in misure di politica attiva quello che ho studiato, quello che ho vissuto e quello che ho patito, sarei un eununco dell'antica Grecia. Io devo anche lavorare contro l'abitudine a ritenere normale ciò che a volte è violenza psicologica. Acquisire tramite videoripresa la dichiarazione fornita in sede di indagini preliminari, secondo il senatore Luciano D'Alfonso, significa che verrà riportato esattamente ciò che si è inteso dire e che anche le domande alle quali si risponde risulteranno documentate. Un modo per efficientare la giustizia e garantire il diritto. Le indagini preliminari nella parte del procedimento hanno anche fatto sanguinare per il dolore psicologico e emotivo molti cittadini estranei. Io ho riportato il caso di Rosa Pelusi, la quale è stata terrorizzata e di lì a qualche settimana ha anche conosciuto il suo fine vita, che nella dicitura del popolo si chiama la morte, perché le domande fatte devono essere domande che fanno emergere la verità, non la verosimiglianza. Non devono mettere all'angolo. E la videoregistrazione è garanzia di memoria remota dell'intero per tutti, cioè per chi fa l'indagine, per colui il quale è indagato, per la persona informata sui fatti e anche per il giudice che è terzo e ha bisogno di avere la visione dell'insieme, ma anche per l'avvocato della difesa. Ci sono dei casi, vi anticipo, che entreranno in una rappresentazione teatrale, perché io sto facendo, sto curando il testo scenografico che ricostruirà quell'esperienza. Ma non è meglio che per esempio la tecnologia faciliti la genuinità, si parla di genuinità nella raccolta degli elementi di prova. Non si spreca nulla così con la videoregistrazione. E le domande insidiose, quelle che mettono all'angolo, quelle che fanno safari, quelle che trattano la persona umana come zolla di carne e non titolare di dignità, quelle domande lì non saranno più possibili.